Degrado, sporcizia, abbandono. La villa comunale di Pagani continua ad essere motivo di protesta da parte dei cittadini, soprattutto dei più anziani, ma anche dei meno anziani. I giardini di Corso, Ettore e Padovano infatti restano il luogo preferito per i rappresentanti della terza età che trovano o almeno sperano di trovare momenti di distensione e relax, aiuole e sentieri abbandonate, alberi non curati, servizi igienici chiusi perché eccessivamente sporchi ed arriva un appello ai commissari prefettizi, l'ennesimo appello a coloro i quali stanno amministrando la città. E' diventato proprio un posto indecente, là vanno a passare tutti gli anziani due ore per leggere il giornale o qualcosa, ma io non posso portare nemmeno i bambini a scuola perché c'è troppo un degrado, colombi morti, rifiuti di cani e non parliamo delle piazzette poi. Purtroppo la sua eccellenza non ci vuole nemmeno ricevere e quindi che dobbiamo fare per portare avanti un po' questo paese? Solo questo voglio dire a sua eccellenza che prenda provvedimento per la villa comunale e per le piazzette. Grazie. 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 Grazie a tutti. Traducere dotto addolta alle riepizzottadone con il名 nyt es��를 dire al recordiere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.